Chi ha parlato di questo momento, ad eccezione di un fatto, l'archivio storico, lo stato maggiore dell'esercito è l'unico archivio che ha il ragguaglio, ma non uno, ce l'ha Tarecchi, c'è addirittura un rapporto di Quintini che è datato 23 gennaio 1861, quindi è lo stesso giorno della strage. Parla della strage, ma è vero che Quintini è l'unico che parla di 60 morti, quindi viene sventito dai suoi stessi, non è che parlano di 30, le possono dare poi tutte le fotocopie a casa, però l'archivio storico, lo stato maggiore dell'esercito è l'unico che parla della strage di scuola.